Bravo, molto intenso, un ragazzo veramente che è riuscito a uscire dallo scheletro del teen idol ormai da tempo e che fa un fottio di click, un fottio di soldi senza dover stare dietro a dinamiche che fin da ragazzino poi sono state imposte perché quando hai un gruppo così famoso fatto di giovani, giovanissimi e lui è riuscito a distinguersi, spesso si finisce in mezzo alla massa, non dimenticati ma comunque si finisce a raccontarsi quello che si è stati invece lui racconta quello che è e quello che sarà, quello che diventerà, quello che sente dentro e ogni canzone che fa ha un'intensità incredibile ma anche quelle più radiofoniche, più sperimentali perché sperimenta tanto e ogni canzone ha il suo perché, un grande artista completo, uno che si è saputo reinventare e porta avanti quello che è, io non avrei mai detto fosse lui, ricordo una vecchia recensione di Watermelon Sugar quello che criticava aspramente e lo davo per finito e mi sbagliavo di grosso, livello molto alto per un artista dalla grande caratura non avrei mai immaginato di elogiare così tanto un personaggio che viene da una band come One Direction voglio dire ma come magari un Justin Bieber che l'abbiamo snobbato che era un bambino, oggi c'ha 40 anni e l'altro po' no per modo di dire ma ha fatto della roba di livello, ha mantenuto risultati di livello e paga il prezzo con se stesso del successo che ha avuto cioè sono personaggi comunque grossi che hanno superato il confronto, il confine con il tempo e che quindi si meritano pure il riconoscimento di chi magari li ha screditati quando erano ragazzini non vedendo quello che evidentemente vedevano già tutti segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita e se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music un'altra parte